Ecco, provo, 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 questo qua, non è l'unico, non è l'unico, non è l'unico, non è l'unico. La metafora che dice che non valeva la pena di uccidere o di lasciare che fosse ucciso comunque un numero così grande di persone, giovani, all'inizio della loro vita, per conclamare una cosa di questa natura. E in realtà se bastano le farfalle per rimettere insieme i vivi e i morti, è invece poco da consolarsi di frontare una storia che non riesce a decidere qualcosa prima delle farfalle. E diciamo questo pensando questa mattina alla normalità di questa giornata. Lo confesso, l'età ha la sua parte in queste cose. Noi siamo come i canali che vanno verso il mare, che non te ne accorti per tutta la vita, poi ti accorti alla fine che vanno a cercare il posto loro, che è il mare. In questi torrenti, vogliamo dire, tu li vedi arrivare e timidamente entrano nel mare e si perdono. E non si sapete che fine hanno fatto.